Andiamo subito con le immagini a Torino-Fiorentina, mi sembra anche giusto, è il primo gol del campionato, vedete Patrizio Sala inizia l'azione sulla sinistra, difende il pallone dall'attacco dell'avversario, si libera molto bene sulla fascia laterale, mette al centro Graziani, controlla, gran tiro, che colpisce il palo, Pulici è molto freddo e preciso e di sinistro trova l'angolo opposto. Pulici è stato veramente il più energico e il più battagliero della squadra di Radice, ha dovuto rinunciare al suo abituale partner Graziani, che è uscito per infortunio già nel corso del primo tempo, sostituito da un giovanissimo, Erba, 19enne, che è in pratica un centrocampista che ha giocato all'attacco. Questa sostituzione ha costretto Radice a far giocare l'altra punta, Iorio, fino alla fine, malgrado Iorio, il giovane Iorio, risentisse di una manovazione. Pareggio al quarto minuto, Antonioni, Mozzini sfortunatissimo nel tocco e autogol, Terraneo francamente non mi sembra abbia colto, subisce il gol del pareggio, quando sono passati ormai soltanto quattro minuti dall'inizio del confronto. In pratica il punteggio si cristallizza qui, ma non mancano nel corso della partita altri spunti interessanti. Ad esempio Pulici, vi ho già detto, si è reso protagonista di alcuni tiri molto belli verso la porta avversaria e la Fiorentina in generale ha giocato una partita molto aperta e molto equilibrata nei confronti della squadra avversaria.